La qualità degli interventi, sia dei relatori, ma anche degli interventi che ho sentito da parte dei partecipanti. Sono stati dati molti suggerimenti, forse è mancata un po' una definizione, siamo rimasti nel vago nella definizione di bene comune, però siamo andati molto in dettaglio nella definizione di pratiche, di buone pratiche, nella condivisione di idee su che cosa si può fare. La bella e interessante è che un comune organizzi su tematiche che sono delitti in fondo, organizzi due giorni che coinvolge un territorio ampio con interventi stimolanti e coinvolto e interessato a dare anche un risvolto pratico, concreto a questo tipo di incontro. La difficoltà invece che ho percepito, non soltanto mia ma anche di altri, è forse una ambiguità relativamente agli obiettivi e ai destinatari, perché in realtà qui parlavamo linguaggi molto diversi, venendo da esperienze diverse. Sicuramente un'esperienza positiva e molti sputti di riflessione anche alla luce del nostro programma elettorale, dove abbiamo un po' impostato sia la nostra campagna elettorale dell'anno scorso, ma anche il nostro mandato sulla partecipazione. L'importante è proprio questo, una democrazia partecipata e quindi che il cittadino si senta parte di una comunità e che le decisioni non siano sostanzialmente calate dall'alto. E che sia un'esperienza importante e sicuramente da ripetere, almeno anzi, continuare i workshop che abbiamo fatto fino ad oggi, ma poi anche trovare questi appuntamenti una volta all'anno almeno.